Ma tu vuoi nana, se leggi rinda l'occhio a verità, fa sempre male quando il tuo papà dice che non ti ho spuso. Ma tu vuoi nana, faci queste cose per se può incontrare, ma stanno tutti quanto contratti, non fanno che tu ho spuso. E tu non vai nella casa, potrai si rinda chiesa con il papà, ma tu vuoi nana, domandante il cuore che fa fa, si dice che vuoi bene correva, oi vittorino da chiesa, e a parto tutte cose. Grazie. 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 Grazie.